La Procura della Repubblica di Agrigento ha chiuso le indagini preliminari sul presunto caso di appropriazione in debita che investe la Cassa Edile della Città dei Tempri. Secondo i pubblici ministeri Giacomo Forte e Luca Sciarretta, nel 2008 l'ex direttore dell'Istituto di Mutualità ed Assistenza Salvatore Grado avrebbe riscosso emolumenti per oltre 800.000 euro, dei quali circa 550.000, in maniera illegittima. A seguito della chiusura delle indagini coordinate dal procuratore aggiunto Ignazio Fonzo, anche il nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza ha eseguito i relativi controlli fiscali a carico di grado, che in provincia è stato anche direttore dell'OIACP. Dalle analisi delle fiamme gialle è emerso che il dirigente non ha dichiarato la parte di emolumenti percepiti dalla Cassa e non spettanti, rendendosi quindi responsabile di un'evasione fiscale per circa 232.000 euro. A fronte della constatazione di tale evasione, il dirigente è stato denunciato alla procura di Agrigento per il reato di dichiarazione infedele.